Buongiorno e forza Viola ragazzi, è un buongiorno, è un buongiorno ragazzi, eccoci qua il giorno dopo e pagellone ovviamente di Mr. Viola su Atalanta-Fiorentina, vinta la partita dalla Fiorentina per 3-2, proprio all'ultimo, all'ultimo secondo grande gol di Milenkovic, la Fiorentina vola in semifinale e guarda caso, chi ti trova in semifinale? Beh era ovvio e scontato ragazzi, apro una parentesi e la chiudo, che ovviamente la semifinale doveva essere tra Juventus e Fiorentina e chi ha regalato il pass alla Juventus per passare all'ultimo soffio anche loro contro il Sassuolo, chi ovviamente è l'ex di turno, cioè Dusan Blauic, quindi non dico altro, ti si aspetta qui il 2 marzo, punto e basta, chiusa parentesi, era ovvio che andava così ragazzi e va bene così, così magari ci togliamo anche un bel Sassuolino dalla scarpa. Detto questo ragazzi ovviamente in questo video andiamo ad analizzare un pochino quello che è successo ieri tra Atalanta e Fiorentina e ovviamente il pagellone di Mr. Viola, come sempre vi invito a iscrivervi sul mio canale YouTube, Mr. Viola, attivate la campanella, tanti like, commentate, datemi i vostri voti e il vostro man of the match dell'incontro, ovviamente condividete questo video con tutti i vostri amici e tifosi Viola e nei link in descrizione non solo trovate i miei shop, la ne trovate anche gli amici di okacalcio.com, ma ovviamente trovate anche i link per andarvi a iscrivere negli altri miei due canali social, il gruppo di Facebook e ovviamente il mio profilo su Instagram, quindi mi raccomando ragazzi, link in descrizione. Allora, alla fine si può dire quello che si vuole ma bisogna dare ragione a Vincenzo Italiano, nel senso io ieri un po' l'ho criticato e oggi lo critico ancora, nel senso ci sono alcune scelte che non ho condiviso, non capisco, come per esempio presentarsi con un centrocampo così molle, mettendosi a Castrovilli che Malè e Torreira, quindi senza avere, diciamo, muscolarietà al centrocampo, non capisco come mai nel secondo tempo non si è tolto uno dei due centrali, visto che erano ammuniti e voglio dire, tu giochi contro una squadra che comunque ti dà la superiorità numerica, ti mette in difficoltà, me ne levi uno dei due, almeno uno è pulito, succede un fallo, c'è qualcosa, non c'è subito il rosso automatico, quindi anche questa cosina qui non l'ho capita e onestamente ho capito anche Maluccio la sostituzione di González che secondo me, sì, magari stava giocando un pochino da solo, però dava qualche grattacapo alla difesa dell'Atalanta, però alla fine uno pensa, se avesse tolto Quarta e Quarta non fosse stato espulso non sarebbe entrato Nicola Milenkovic, oppure se non avesse sostituito González la partita non sarebbe andata così, quindi alla fine della fiera la bisogna dare alla giornale Vicente Italiano che comunque l'ha vinta in qualche modo, grandi parole anche di Pradè, è stato bello, ha detto che questa squadra è un gruppo, la squadra non la fa solo un singolo calciatore, siamo andati là, abbiamo vinto contro l'Atalanta, l'ha detto anche Vicente Italiano, vincere a Bergamo contro l'Atalanta, una squadra forte come l'Atalanta non è mai semplice, sono anche contento di Piontek, avevamo bisogno di una risposta anche là davanti e Piontek secondo me ha giocato una grande partita, si è sacrificato per la squadra, ha giocato tutta la partita e nonostante non abbia segnato sua azione, però ragazzi ha segnato due volte sul calcio di rigore, ci vuole freddezza, ci vuole anche maturità per presentarsi davanti al dischetto e prendersi comunque questa grande responsabilità, quindi bravo Piontek. Ovviamente ragazzi detto questo, penseremo subito alla partita con lo Spezia perché bisogna anche ripartire in campionato, ma prima ovviamente pagellone di Mister Viola e partirei subito con Terracciano, grande San Pietro, eccolo qui, Terracciano, a cui do un 6,5 senza problemi perché non è stato facile per lui giocare contro uno stadio perché purtroppo i corri razzisti l'abbiamo sentiti ed è brutto, ok, non voglio ripetere quello che gli è stato detto però grande 6,5 perché comunque è stato presente, sui gol sinceramente poteva fare ben poco, però credo che abbia dato grande sicurezza e comunque è lui il portiere titolare e la squadra si fida di lui anche per tutte le volte che torna indietro a passare il pallone, quindi bravo Pietro, un'incertezza forse su un passaggio però bravo Pietro 6,5. Quarta, allora quarta devo dire inizia bene, grande garra, argentino puro, insomma ci mette il suo, poi però perde un po' troppo i contrasti, la munizione pesa perché sul contrasto con Bogat non ci mette il piede cattivo e quindi ovvio per paura della munizione e quindi pesa e c'è il gol di Bogat, mette un po' in difficoltà la squadra anche se onestamente l'espulsione non c'è ragazzi perché tocca pallapiena però purtroppo non è proprio una partita sufficiente quindi è un 5 meno. Igor, anche lui ha munito nei primi 45 minuti, anche lui gioca una partita un po' di sofferenza, grande fisicità, fa dei belli interventi ogni tanto perde l'uomo anche perché comunque gli avversari atalantini sono di caratura molto alta a livello tattico però Igor fa la sua figura, non sfigura ma neanche fa la partita della vita, comunque è una sufficienza più che meritata perché comunque poi lotta fino alla fine per portare a casa poi la vittoria regalata da Milenkovic. Non figurerà Milenkovic perché lo voglio lasciare da ultimo, eh sì Milenkovic lo ha da ultimo. Odrio Zola, anche lui, allora partita che non mi è dispiaciuta per niente dell'ex Real Madrid, dello spagnolo, mi è piaciuto un 6 e mezzo perché secondo me su quella corsia è stato uno dei pochi a spingere, sempre piede sull'acceleratore, è vero, perde molto spesso l'uomo molto spesso si dimentica di tornare in difesa però devo dire che è un terzino destro sicuramente di un livello diverso rispetto a Venuti è un terzino che comunque ti dà tanta velocità là su quella fascia quindi a me non è dispiaciuto, gli do un 6 e mezzo. Adesso passiamo a un voto brutto, mi dispiace, Castrovilli. E purtroppo Castro io, a me dispiace, per me sei da 5 perché non avevi iniziato male però poi ti sei perso debole sui contrasti, non arrivi mai sulla seconda palla, non riesci neanche a capire bene i movimenti dei compagni quasi un corpo estraneo, è peccato perché comunque dietro hai un numero pesante, è la 10, a Firenze la 10 pesa io mi auguro che tu ti possa ritrovare Castro però ieri sinceramente non mi sei piaciuto, mi dispiace non lo so, spero veramente sia un momento, tu ti debba ritrovare però ieri partita insufficiente di Castrovilli. Torreira, si farà sentire la sua assenza a Spezia, un bel 6 e mezzo, sta lì, lotta, ogni tanto va in difficoltà però si rialza sempre devo dire che comunque gioca, dispensa palloni, tiene anche il gruppo, questo è importante quindi un bel 6 e mezzo a Torreira non voglio dimenticarmi di Biraghi ovviamente perché non ho la carta di Biraghi però comunque anche Biraghi insomma capitano qualche volta in sofferenza ci prova da subito, assaggia subito una gomitata quindi insomma entra subito nel match comunque è lui che butta il pallone poi nel mezzo del definitivo 3 a 2 finale però devo dire bravo Biraghi perché comunque non è facile su quella corsia, i giocatori dell'Atalanta si sono fatti vedere molto spesso è un capitano, è un bel 6 tranquillo, devo dire bravo quindi non è una partita sufficiente da parte di Biraghi non ha brillato però non è anche demeritato. Adesso andiamo a voto invece importante, 6 e mezzo Malè, mi piace mi è piaciuta la partita di Malè, sempre attivo, ci prova subito con un tiro al volo, si fa vedere a centro campo ruba palloni, recupera palloni, è sempre vivo nell'azione, ogni tanto sbaglia ma ci sta di sbagliare l'importante è essere presenti, cosa invece che non fa Castrovilli, quindi 6 e mezzo a Malè González, allora io gli do un 6 perché a me non è dispiaciuta la partita, magari mi aspettavo che fosse un pochino più incisivo potrebbe andare sul 2 a 0, fa una scelta di un passaggio che sinceramente non ho ancora capito però poi impegna molto bene Musso subito sull'azione successiva. Non ho capito la sostituzione però do ragione all'italiano se l'ha sostituito quindi ovviamente bravo il mister mi è piaciuto però il fatto che comunque abbia regito alla sostituzione non mi è piaciuto il fatto che abbia regito in quella maniera, però un giocatore che non voleva uscire che sente questa maglia, ha voglia di sfondare e sicuramente vuole tornare al gol quindi bravo González, ti rifarei sicuramente con lo Spezia, te lo auguro veramente comunque un bel 6, lo prende pieno. Uno dei subentrati, buona avventura 6, partita sufficiente perché non è che faccia grandi cose però è lì nel mezzo a recuperare palloni, a reggere botta contro comunque un'Atalanta sul 2-2 che ha superiorità numerica non in inferiorità numerica, a buona avventura dà comunque il suo contributo 6, tranquillo. Uno invece che ha cambiato sicuramente l'inizio del match è Sottil che è entrato, subito al tiro, salta all'uomo 6,5 anche per quanto riguarda Riccardo Sottil è in uno stato di forma di grazia quindi secondo me è difficile farne a meno bravo Sottil, devo dire la verità perché mi è piaciuto comunque come ha approcciato la gara uno invece che non mi è piaciuto come abbia approcciato la gara è Ricky Saponara, purtroppo Saponara tra l'altro poco incisivo è un 5 perché onestamente la sua presenza in campo non si è vista e anche quando è stato sostituito non ci ricordavamo neanche che c'era Saponara in campo quindi insomma una partitaccia un po' per quanto riguarda Ricky Saponara ora passo diciamo a dare il voto del man of the match se vogliamo colui che ha risolto un po' la partita colui che è entrato al posto di quarta insomma che ha fatto rilevare Malè eccolo qua man of the match gol pazzesco entra allora devo dire che entra e perde subito l'uomo e va bene però ha la grandissima dote di trovare questo pallone di calciarlo e di regalare una gioia immensa ai tifosi fiorentini per questo passaggio del turno per questa vittoria quasi insperata a un certo punto quando eravamo sul 2 a 2 sul 2 a 1 e con l'inferiorità numerica devo dire che ci hai regalato una grande gioia Nicola ogni tanto anche tu ti perdi però devo dire che ieri sera veramente ci hai fatto gioire e io mi auguro che questo gol possa essere liberatorio anche a livello mentale per questa squadra e che sia anche un gol liberatorio per la mentalità di tanti tifosi viola che ancora adesso criticano per quello che è successo nel calciomercato andiamo avanti la squadra sta andando avanti la squadra è col mister e quindi supportiamo questa squadra ieri questo gol spero sia la rinascita viola dopo questo calciomercato la rinascita fiorentina ecco mi auguro che possa essere questo e chiudo ovviamente col mister Vincenzo Italiano non per ultimo per importanza ma ultimo perché comunque è il mister lo tengo qua su allora ripeto mister alcune cose non le condivido altre cose non le capisco però ti do ragione perché alla fine i risultati contano è una squadra che sicuramente avrà tempo per migliorare avrà tempo per entrare nei meccanismi non ho nominato Icone non perché non abbia meritato ma perché secondo me è un senza voto cioè uno scivolone ci prova subito poi anche lui partecipa diciamo alla vittoria della squadra tenendo tenendo diciamo il muro in qualche modo quindi è un senza voto Icone però ecco mister ci sono alcuni giocatori che magari in questo momento non capiamo il perché non li voglia inserire probabilmente ancora Icone non è proprio nei meccanismi di questa fiorentina però sicuramente è su Pionte che ha fatto un grande lavoro perché sembra già un attaccante immerso nella realtà fiorentina quindi mister le do un bel 6 e mezzo perché il passaggio del turno contro l'Atalanta a Bergamo vi dico la verità non quasi un po' tutti i tifosi viola avranno pensato sarà difficile sarà veramente difficile e alla fine mister ha avuto ragione lei detto questo ragazzi come sempre io vi invito a iscrivervi vi invito a seguirmi su tutti i miei social e ci vediamo tra i prossimi giorni perché ovviamente c'è un'altra partita importantissima quello con lo Spezia quindi vi aspetto al giorno prima andremo a parlare di come la Fiorentina si sta preparando dopo una grandissima vittoria testa subito allo Spezia sempre grazie grazie